E' chiaro per me, è una partita particolare, però è altrettanto chiaro che non bisogna neanche correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale di fronte a un obiettivo collettivo. L'obiettivo collettivo è quello di andare là e giocare una partita di alto livello per cercare di portare a casa punti. La partita è difficile e complicata per tantissimi motivi. Io solitamente non guardo mai questi aspetti perché poi sono degli aspetti che hanno duemila sfaccettature diverse, alcune positive e alcune negative. Se Iguain domani gio è perché viene da una partita straordinaria, se Iguain domani sta fuori è perché vado ad altri tipi di decisioni. Ma le decisioni devono essere prettamente tattiche perché se vai su altri tipi di valutazione, te l'ho detto, ci sono mille aspetti positivi ma anche mille aspetti negativi. L'inserimento di IDEM torna ad avere un punto di riferimento a centro campo per via centrale. Che tipo di partita mi aspetto? Mi aspetto una partita difficile. Il Napoli è una squadra forte. Le squadre forti anche se attraversano un momento difficili e nelle partite secche rimangono squadre pericolosissime. La classifica del Napoli è strana perché poi se va a guardare le classifiche di rendimento della Serie A in Napoli è primo in possesso palla, in bariscentro, in verticalizzazione, in tiri fatti, e se ondono i tiri subiti, e se ondono le occasioni create. Quindi ha una classifica che non corrisponde a quello che stanno esprimendo. Leggendo questi dati viene naturale pensare a una squadra che è destinata a risollevarsi in classifica anche abbastanza velocemente. Potremmo dire che le qualità tecniche dei loro giocatori sono elevatissime, quindi partita difficilissima materialmente. Difficile mentalmente perché vengono da una vittoria importante che li può rilanciare e poi io so benissimo quanto per loro è importante questa partita e le motivazioni che avranno. Quindi è una partita difficilissima. Siccome ero lì quando la Juventus ha pagato la clausola di Higuain, posso dire che i fischi erano ingiusti.